Strutture di controllo molto importanti nei linguaggi di programmazione sono i cicli o in inglese loops. I cicli ci permettono di eseguire un certo numero di volte uno stesso blocco di codice finché una o più condizioni sono verificate. Il primo ciclo che studiamo è il ciclo while. La sintassi è davvero semplice. Utilizziamo la keyword while e poi apriamo le parentesi tonde. All'interno indichiamo la condizione o le condizioni. E poi come al solito apertura e chiusura parentesi graffa e all'interno inseriamo le condizioni che vogliamo vengono eseguite finché la condizione o le condizioni all'interno del while sono verificate. Ad esempio definiamo una variabile $condizione a cui assegniamo il valore true. Definiamo anche una variabile $i con valore 0 e facciamo una while. Qual è la condizione? La condizione è che la variabile $condizione abbia il valore true. Se qua facciamo un echo, ad esempio di $i e post incrementiamo la variabile $i, quindi facciamo più più e poi facciamo anche br. Se noi eseguissimo questo codice che cosa succederebbe? Succederebbe che avremmo un ciclo infinito. Per quale motivo? Perché la condizione qui all'interno è sempre verificata. Questo vuol dire che PHP quando incontra il while controlla se la condizione è vera, entra all'interno del while se la condizione chiaramente è vera, effettua l'eco di $i e incrementa la variabile e poi non procede in avanti con il codice, ma torna a ricontrollare se la condizione è vera, è ancora vera. In questo caso è ancora vera perché la condizione non viene modificata all'interno del while e quindi rieseguirà l'eco, l'eco della variabile $i e qui all'interno incrementiamo, post incrementiamo la variabile. Poi PHP che cosa farà? Non andrà avanti, ma ricontrollerà che la condizione sia vera. Dato che abbiamo sempre $i condizione uguale true, chiaramente la condizione risulta vera e quindi di nuovo eseguirà l'eco e così via all'infinito, potenzialmente all'infinito. Ad un certo punto quindi la condizione deve essere falsa, deve quindi passare da true a false. Ad esempio vogliamo mostrare in output i valori da 0 a 10 e poi vogliamo interrompere il ciclo while. Come possiamo fare? Semplicemente facciamo $i, utilizziamo questa variabile $i e minore o uguale di 10, portiamo l'eco all'interno dell'if, altrimenti facciamo in modo che la condizione non sia più verificata, ovvero assegniamo alla variabile $condizione il booleo false. Quindi facciamo $condizione uguale false. Quando è che questo if sarà verificato? È verificato finché $i è minore o uguale di 10. Quando $i avrà valore 11, perché vediamo che viene sempre incrementato il valore, non entreremo più all'interno di questo if, ma PHP entrerà all'interno dell'else e all'interno dell'else modifichiamo la condizione da true a false. Quindi quando PHP ricontrollerà se la condizione è vera o falsa, vedrà che la condizione è vera perché la variabile $condizione adesso contiene il valore booleano false e quindi il ciclo while termina e il codice continuerà dopo il while. Andiamo nel browser, aggiorno la pagina e vediamo che abbiamo la sequenza da 0 a 10 e poi abbiamo l'eco dopo il ciclo while. Quindi la sintesi è semplice però facciamo attenzione a non creare una loppa infinito. Definiamo adesso un array di alunni. Definiamo un array con tre elementi, facciamo Marco, Simona e Francesca. Abbiamo visto che possiamo effettuare un vardump di dollar alunni per mostrare gli elementi dell'array, però certamente noi non vogliamo mostrare in output al client le informazioni in questo modo. Quando facciamo vardump lo facciamo perché è un qualcosa che vogliamo mostrare a noi stessi, vogliamo controllare come programmatori dell'applicazione e cosa contiene in quel momento una certa variabile. Possiamo invece utilizzare un ciclo while per visualizzare tutti gli elementi di questo array. Come sappiamo non possiamo fare direttamente un eco di dollar alunni. Avremmo una warning di tentativo di conversione di un array in stringa. Come facciamo a visualizzare tutti gli elementi dell'array con un while? Intanto recuperiamo il numero di elementi di quest'array. Come facciamo? Abbiamo una funzione apposita, la funzione count, quindi facciamo dollaro numero alunni uguale count dollaro alunni. Definiamo una variabile dollaro i che inizia da zero perché tramite questa variabile noi vogliamo accedere ai singoli elementi all'interno dell'array e sappiamo che un array in questo caso, come in questo caso ordinato, ha indici a partire da zero, non da uno. Quindi questo elemento ha indice zero, questo elemento ha indice uno e questo elemento ha indice due. Quindi prendiamo questa variabile, la inizializziamo con il valore zero, quindi assegniamo il valore zero alla variabile e poi abbiamo l'informazione sul numero di elementi dell'array. In questo caso abbiamo il valore 3. Allora possiamo fare un semplicissimo while. Finché dollaro i è minore di dollaro numero alunni, per quale motivo faccio minore e non minore uguale? Perché se facessi minore uguale, anche se dollaro i arriva al valore 3, ha il valore 3, la condizione sarebbe verificata. Però possiamo notare che in questa array non abbiamo nessun elemento con indice 3, l'ultimo elemento ha indice numero di elementi dell'array meno 1, quindi ha indice 2 in questo caso. E facciamo un eco di dollaro alunni. A quale elemento vogliamo accedere? Vogliamo accedere all'elemento indicato all'interno della variabile dollaro i. Ricordiamo che inizialmente dollaro i ha il valore zero e concateniamo un break. Però se adesso lanciamo lo script andremmo in loop infinito. Per quale motivo? Perché dollaro i sarebbe sempre zero e quindi la condizione sarebbe sempre verificata. Allora dobbiamo incrementare la variabile. La variabile dollaro i. Possiamo fare così. Dollaro i più più. Andiamo nel browser e vediamo se funziona. Aggiorno la pagina ed è così. Abbiamo Marco, Simona e Francesca. Abbiamo parlato di post e pre-incremento. Se noi facciamo pre-incremento che cosa succede? Prima il valore viene incrementato e poi ritornato. Se noi invece facciamo post incremento il valore prima viene ritornato e poi incrementato. Questo vuol dire che invece di fare in questo modo dollaro i più più quindi invece di scrivere un'altra istruzione possiamo post incrementare in questo punto la variabile dollaro i. Se andiamo nel browser e aggiorniamo la pagina vediamo che abbiamo lo stesso risultato e abbiamo risparmiato una istruzione. Nel caso in cui contestualmente alla visualizzazione degli elementi dell'array vogliamo anche rimuovere gli elementi possiamo utilizzare questa strategia. Cancelliamo tutto. Facciamo una cosa. Facciamo un eco di array pop. Come sappiamo array pop rimuove l'ultimo elemento all'interno all'interno dell'array dollaro all'unni. Non solo rimuove l'elemento ma lo ritorna come valore di ritorno della funzione array pop e infatti se andiamo nel browser visualizzeremo Francesca come ultimo elemento dell'array. Però se facciamo ancora per due volte anzi facciamo per altre tre volte l'eco di array pop. Andiamo a vedere che cosa abbiamo. Abbiamo Francesca, Simona e poi abbiamo Marco. Però il quarto eco non lo visualizziamo allora facciamo un var dump. Non lo visualizziamo perché alla quarta volta abbiamo nulla perché non abbiamo elementi all'interno dell'array e quindi array pop ritorna nulla. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che possiamo fare una semplice while. Facciamo while e all'interno assegniamo ad una variabile dollaro all'uno al singolare quello che viene ritornato dalla funzione array pop. E quindi facciamo un eco di dollaro all'uno e concateniamo facciamo virgola un break. Torniamo nel browser, aggiorno la pagina ed abbiamo correttamente Francesca, Simona e Marco. Però adesso se chiaramente facciamo una var dump in questo punto dell'array dollaro all'uni avremo un array vuoto perché ovviamente abbiamo rimosso tutti gli elementi all'interno dell'array.